Segretario, questa Assemblea di stasera ci sono novità? È una bella novità, è il fatto stesso che il partito si rivede, ci si incontra, ci confrontiamo e quindi vuol dire che è sinonimo di un partito vivo, che ha interesse e che ha a cuore i problemi del territorio, i problemi della città, i problemi del comprensorio e anche perché oggi per il Partito Democratico è un giorno importante. C'è l'Assemblea cittadina e che dall'Assemblea cittadina sarà eletto il Presidente del Partito e quindi è un bel avvenimento. Chi sarà? Avete già fatto una scelta di chi sarà il Presidente del Partito? Il Presidente del Partito, la proposta che immagino condivideranno, condivideremo tutti quanti all'unanimità, l'Avvocato Emanuele Asteriti, sarebbe la proposta che era stata fatta già a suo tempo da parte della Federazione del Partito e noi di questo ne siamo contenti, siamo soprattutto soddisfatti della sintesi e dell'accordo che si è trovato insieme. Il motto di questa fase congressuale, ma anche del lavoro che stiamo facendo, è proprio quello dell'unità, l'unità vera, l'unità vera sulle persone, sui progetti e soprattutto sul lavoro che questo nostro partito deve necessariamente svolgere a partire dai problemi che attanagliano questa città, le varie comunità limitrofe in maniera particolare di lavoro, 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 lavoro. Quindi sono finite le guerre interne al PD, si guarda avanti? Necessariamente dobbiamo guardare avanti, ma penso che in questo momento non ci siano assolutamente guerre, ma necessariamente c'è e ci deve essere una condivisione, ci deve essere una condivisione e soprattutto ci deve essere il massimo impegno e la capacità di fare sintesi sui problemi, al di là della diversità delle idee, di vedute su alcune problematiche, però poi bisogna avere la maturità di fare sintesi ed insieme, in maniera unitaria, forte, andare avanti. Il direttivo provinciale che era riunito prima dell'assemblea, sono stati questi gli argomenti trattati? Sono stati questi gli argomenti trattati, in più partiremo già da stasera, partiremo con un bellissimo e interessantissimo tour, dove raggiungeremo tutte le sezioni dei paesi, perché abbiamo fortemente capito la lezione del 4 marzo che ci ha fatto riflettere e nello stesso tempo con grande umiltà abbiamo capito che bisogna ripartire dai territori, valorizzare i territori per poi raggiungere risultati importanti.